Andrea Pippo, Jung e Reich, Freud e i suoi discepoli, Eresia, Misticismo, Energia, Nazismo, edito da Mimesis nel 2014. Ecco perché il micio champagne non fa più la mascotte di video. Ecco la nota biografica dell'autore Andrea Pippo, laureato in Medicina, diploma quadriennale in Agopuntura e Tecniche Affini, laurea in Filosofia con Edirizzo Epistemologico e Cognitivo, è ricercatore indipendente nei seguenti ambiti, filosofia della mente, della psicologia, della morale, medicina della complessità e rapporto mente-corpo, anche sul versante neuroscientifico. La formazione culturale di Andrea Pippo, è così eclettica, si riscontra nella modalità di scrittura del libro. L'accoppiata Jung e Reich è inesistente, è una forzatura comparativa, che ha tutto l'interesse di quel che in questa comparazione emerge, più che in quel che c'è, come peraltro l'autore sa di questa inesistenza. avrebbero potuto essere due libri, uno su Jung e uno su Reich, e invece Andrea Pippo ha optato per un solo libro. Occorre due per fare uno, dice non a caso lo psicanalista e matematico Jean-Michel Vabberon, menzionando quello che Freud dice a proposito del libido, sono due, dovrebbero essere due, una maschile e l'altra femminile, e invece è una, quella fallica. Nel libro è anche questione della dualità pulsionale, che in modo differente, in Jung e Reich, dovremmo dire, ovviamente, è portata all'unità, all'unificazione, alla congiunzione degli opposti. È il caso quindi di Jung e Reich per Andrea Pippo, il caso di uno spiritualista e di un materialista. Andrea Pippo pare quasi non portare interesse per Freud, ma per gli eresearchi, Carl Gustav Jung e Wilhelm Reich. Anche nella parte del libro dedicato a Freud e i suoi discepoli, si tratta solo dei suoi discepoli sismatici, più che esclusi, di Freud. È impossibile dire quale sia la lezione per Andrea Pippo, mentre con Jung e Reich la lezione è quella di una conferma, di un metodo onnicomprensivo, che è anche frutto dell'ideologia italiana, che nella mentalità dell'autore sfocia in un quadro della situazione il più possibile bilanciato. La bilancia è un ipotiposi della congiunzione degli opposti. Ecco un esempio del metodo di indagine in riferimento alla schizofrenia, nota 1 a pagina 165, in cui si rileva la formazione medico, filosofico, cognitivista, neuroscientifica dell'autore. Cito, l'ipotesi delle tossine come causa della schizofrenia trova un plausibile riscontro nelle ricerche contemporanee delle neuroscienze. I sintomi della schizofrenia, infatti, si ipotizza siano in rapporto con un'alterazione della trasmissione sinaptica dopaminergica. La dopamina, come principio tossico, dunque, anche se, secondo il neuroscienziato Eric Kandel, non vi è. Tuttavia, alcuna prova diretta che l'eccessiva attività delle cellule dopaminergiche ancora non rappresenta l'unico meccanismo implicato in questa malattia, tratto dai principi di neuroscienze. L'eziopatogenesi della schizofrenia sfugge, prosegue la citazione, finora all'analisi scientifica, ma certamente essa può essere indagata a diversi livelli di comprensione e la sua origine deve essere considerata multifattoriale. ecco quindi il patchwork. L'ipotesi delle tossine come causa della schizofrenia è plausibile. Si tratta di un'ipotesi, non viene nessuna prova. La schizofrenia è una malattia, la sua causa sfugge l'analisi scientifica. La schizofrenia è un'altra cosa? No. Può essere indagata a livelli diversi di comprensione. La sua origine è polifattoriale, giustifica e legittima qualsiasi ricerca, anche quella nello smarrimento più completo. Qual è l'ipotesi di qualità di Andrea Pitto? Solo un'ipotesi di quantità, la polifattorialità, c'è posto anche per lui. La schizofrenia è un fantasma, una copia impossibile della vita, non verrà mai trovata la causa della coppia e così la storia anche per l'isteria, per la nevrose essensiva, per la paranoia e per l'autismo. L'approccio di Andrea Pitto ai due autori è storicistico, bilanciato, includente e inconcludente, ovvero mai chiaro su una questione, come se lo storico non fosse toccato dalla materia della parola e dal suo stesso viaggio intellettuale, come il soggetto della scienza che non esiste per il discorso scientifico di cui pare che ci sia solo l'oggetto di scientifico. Anche sul tema della complicità con il nazismo da parte di Jung Andrea Pitto non giunge alla chiarezza. D'accordo il suo è più un erudito giornalismo psicoanalitico decisamente più interessante del giornalismo cinico che scrive infiniti dossier contro Freud ma potrebbe giungere Andrea Pitto alla cifra del caso la sfiora più volte eppure manca il tono dell'incontro la verità come effetto. A partire dal 1933 ovvero dall'ascesa di Hitler Jung è coinvolto nella direzione della società medica generale per la psicoterapia che poi confluisce nel 1936 nell'istituto Göring che era l'istituto psicoanalitico e non menziona nell'introduzione che la detta società è retta sulla chiusura di questo istituto psicoanalitico di Berlino poi nel capitolo sul nazismo Andrea Pitto cita anche il lavoro dello storico Geoffrey Cox sulla psicoterapia sotto il terzo Reich ma non ne trae implicazioni l'eliminazione dell'istituto freudiano eliminazione dei testi freudiani l'esclusione degli psicoanalisti ebrei come possono non permettere di concludere sull'antisemitismo di Jung certo è un antisemitismo alto-borghese benpensante infatti conclude Pitto che la vita di Jung è stata quella di un benpensante svizzero quello che non osa leggere Pitto è il benpensante svizzero rispetto alla questione della teologia politica dell'accettazione delle gerarchie e quindi non è se questo impianto gerarchico che sostiene questa definizione impianto gerarchico che non metterà mai in discussione e non sappiamo perché e non cerchiamo neanche di indagare l'antisemitismo soft di Jung è quello che lascia fare il lavoro sporco a Hitler e così l'antisemitismo invisibile ai più di Heidegger mentre è noto l'antisemitismo di Carl Schmitt comunque negato da quasi tutti gli storici italiani salvo Carlo Angelino che ha pubblicato i testi antisemitili più eclatanti sul suo giurista del Führer come era chiamato anche nel caso o dell'esperienza di Jacques Lacan si avverte il disinteresse per la teoria e l'opera dello psicanalista francese non ci sono affondi teorici ma non mancano le frecciatine come quella di definire Lacan un autore di derivazione psicanalitica o di valutarlo citando un suo papagallo italiano inoltre ha ulteriore conferma dell'ecletismo compromissorio conclude il capitolo sugli eretici e il loro credo e il paragrafo sulla CAM proponendo una classificazione degli psicanalisti freudiani di destra e di sinistra non è la distinzione di Schmitt tra ebrei e non ebrei ma non siamo lontani come questione salvo appunto poi anacquare la sua proposta dicendo che naturalmente altre classificazioni sono possibili purtroppo ma così facendo riesce a mettere in questo libro anche un'introduzione sull'agopuntura che ci sta come i famosi cavoli a merenda sembrano le ragioni della pagnotta il libro di Andrea Pinto preso a livello della sua proposta è un archivio aperto che mette a disposizione i materiali affinché ciascun lettore possa trarre la sua ipotesi di lettura allora è il caso di leggere il modo in cui Andrea Pinto ha suddiviso il suo imponente lavoro di oltre 600 pagine dopo un'introduzione prima parte Freud la psicanalisi i seguaci i dissidenti i critici un misterioso dualismo eresia dogma ortodossia suddiviso in il confinamento del sapere movimento psicanalitico tra chiesa e partito le tesi dei critici Mosè alla conquista dell'ess Eric Fromm ambizione e erotismo Henry Ellenberger conformismo e ideologia dominante Robert Castel psicologia versus biologia Frank Souleway analisi didattica potere psicanalitico e dissidenza Johannes Gramerius un altro capitolo la difesa della giusta tra virgolette norma psicanalitica le origini Freud il comitato segreto questione interessantissima da leggere prima fase la grande guerra Reich Jung il comitato segreto seconda fase il comitato segreto ultima fase altro capitolo i paladini del maestro un normale analista tedesco Karl Abraham un biografo del maestro Ernest Jones un vero ortodosso Hans Sachs un altro ortodosso esemplare Max Eitingo gli erettici il loro credo volontà di potenza e socialismo Alfred Adler un geniale confusionario Willem Steckl verso la mitologia Otto Rank verso il corpo Sandor Ferinzi Anarchia libertà sessuale Otto Gross il linguaggio dell'Ess Georg Grodeck fantasmi psittici Melanie Klein la macchina influenzante della schizofrenia Viktor Tausch un analista di Reich Sandor Rado psicologia dell'io e dell'adattamento Heinz Hartmann cultura società Karen Hornei linguaggio inconscio struttura Jacques Lacan poi c'è una seconda parte dedicata a Jung e Reich appunto capitolo di stacchi progressiva disaffezione e separazione finale Jung doppia cospirazione e doppia espulsione Reich capitolo malattia creativa la malattia creativa di Jung gli stadi della vita la malattia creativa di Reich malattia creativa tra virgolette poi capitolo il culto degli eretici il culto di Jung e il culto di Reich misticismo e questioni religiose e qui abbiamo Jung misticismo religiosità e psicologia analitica con ulteriori sottocapitoli l'Oriente risposta a Job Jung alchimia gnosticismo astrologia Iking Reich misticismo meccanicismo funzionalismo mistico della natura accusi di gnosticismo e di fare alchimia con i suoi esperimenti ascolta piccolo uomo che è uno scritto di Reich poi il capitolo energia considerazioni e definizioni generali di energia che cos'è l'energia esiste l'energia biologica libido la concezione di Freud Jung l'energetica psichica Reich libido e teoria dell'orgasmo con alcuni paragrafi l'energia organica la bioenergetica la bioenergetica Loven e Pierre Rappos concezioni fisiche Jung fisica di quanti e sincronicità Reich funzionalismo cosmologia e meccanica quantistica poi anche un capitolo che riguarda gli UFO cioè il modo in cui insomma hanno letto questa questione Reich Do Melano e Dextra Terextri Jung e gli UFO la medicina tradizionale cinese l'agopuntura è un capitolo la medicina tradizionale cinese l'agopuntura e lo yoga poi un altro capitolo nazismo questione razziale politica e società e abbiamo all'interno Jung l'antisemitismo Jung e il fenomeno nazista poi Reich il fascismo non è solamente movimento politico e gli ulteriori specifiche su la teoria della razza il nazismo le idee politiche di Reich Reich libertario la democrazia del lavoro ultimo capitolo prima dell'epilogo la psicologia di Jung e Reich Jung il processo di individuazione istanze della psiche i tipi psicologici e Reich struttura caratteriale corazza i tipi di personalità è chiaro che semplicemente affrontare la questione del processo dell'individuazione del processo di individuazione di che cosa sia un'istanza della psiche e la tipologia Jungiana per esempio i tipi psicologici rispetto a altre nozioni di tipo dalla tipografia ai cifratipi e ai monotipi sono articoli se non libri infiniti da leggere il volume ha la bibliografia a pagina 645 c'è l'interesse a leggere e parzialmente a rileggere gli autori che cita questo sì e le questioni in ciascun libro è una 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 al di là dell'approccio ideologico ma qui è più mentalistico letteralmente più che ideologico e noi abbiamo tratto da questo libro le infinite questioni che non abbiamo ancora elaborato e che tra volte possono anche giungere a scriversi come il caso di Viktor Tavsk e che rimanda anche al libro dello storico Paul Roazen nel libro appunto fratello animale qual è lo scopo dell'opera di Andrea Pinto in altri termini in questo libro scrive ho inteso illustrare gli argomenti menzionati eresia misticismo energia nazismo eccetera traendo spunti dal pensiero e dalle vicende esistenziali di Wilhelm Reich e di Carl Gustav Jung in questa sottomissione trattino sottomissione di illustratore e di trattore esistenziale nel senso in cui lo diciamo in francese la parola trattore esiste come in italiano esiste quella di trattoria il libro è riuscito Andrea Pinto ammette di avere sempre avuto tra l'altro maggiore interesse per Reich chi legge il libro se ne accorge e se qualcuno leggendo questo libro avvia una lettura di anche uno solo degli psicanalisti degli psicanalisti menzionati allora c'è anche una riuscita intellettuale al di là delle nostre annotazioni che divergono dall'itinerario dell'autore Andrea Pinto ciascun libro non è positivo o negativo ciascun libro è da leggere ed è quello che abbiamo fatto leggendo ciascuna di queste oltre 600 pagine e leggendo anche tutte le note a piedi pagina come essertuni da fastidio